Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Andeg e oggi ragazzi siamo in un nuovo video vlog Oggi vedete come il paesaggio cambia sempre in ogni video, non so perché, è sempre più bello anche il prossimo Oggi ragazzi siamo di nuovo insieme al mio amico The Animal, saluta! Ciao! Ciao! Speriamo che questa intro saluta Comunque, oggi ragazzi registriremo il video con le bici, ma dai! E faremo i salti, faremo video, salti eccetera Il video sarà un po' più corto degli altri perché aveva le videocamere spente e quindi non... Perché abbiamo le videocamere scariche e quindi non siamo riusciti a fare il video E intanto godetevi il video che verrà, vedremo come verrà e se no verrà Comunque ragazzi spero che il video vi piaccia e noi ci vediamo all'auto Ciao ragazzi, ci vediamo dopo! Ciao! 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 porco a vero non abbiamo vici ricordarmi il telefono però è quasi no ragazzi questo qua è stato un salto spero vi sia piaciuto hai visto hai visto vai 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 questo è stato un salto vai fa la prova ragazzi tranquilli alto grazie che l'ho preso dal lato però alto edo ce la farai ce la farai cioè mettiti pure questo sopra che è meglio dai lascialo giù lo zaino bevi un po di acqua e guardate che vi faccio vedere da vicino guardate che vi faccio vedere da vicino ecco è alto questo è tipo un mio ginocchio e praticamente lui dovrebbe arrivare qua qui e dovrebbe saltare fuuuu e arrivare fino a lì dai edo dopo dici la tua esperienza va bene dai edo figo è bellissimo guardate qua quanto è in discesa la batteria qua è arrivata tutto torta guardate qui guardate qui guardate qui guardate qui guardate qui Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.